raga siete pronti oggi qui ci avemo fettine panate mamma mia ti è so ventagli sono so fettine panate qua girtare che ci sta a combinarci stare ho fatto ste fettine dove il frigo e via ecco queste lasciamole qua così sono belle larghette ecco qua quindi che hai fatto panatura nell'uovo e poi nel pan grattato l'uovo pan grattato e ci ho messo pure un po di parmigiano in mezzo va bene e adesso friggiamo mamma mia raga che vodi che fa che spettacolo mamma mia raga che sventole non mettiamo quest'altra dai e vai girtare mamma mia raga eccole qua e le nostre fettine panate vicino ci ho fatto due patate al forno e adesso noi non c'è una mamma mia raga che fame buon appetito dalla cucina di gilda e piatto ricco messefico un bacione a tutti e ricordatevi che ve amo ciao